Grazie a tutti. Cosa ti turba, Don Camillo? È il fatto che oggi è successo una cosa stupida. Mi sono incontrato con un morto faccia a faccia giù nella strada. Don Camillo ragiona. Di solito i morti che si incontrano per la strada sono rini. No, quello era morto, ne sono sicuro, perché l'ho accompagnato io stesso al cimitero. Se è così non dico più nulla. Sarà un fantasma? Un fantasma? Ma che fantasma? Mi meraviglio di voi che credete, fantasma. E allora, Don Camillo? Già, allora. Ah, proprio a voi mi cadete come il cacio di maccheroni. Prego, accomodatevi. Brasile, ma Brasile, ma Brasile, ma Brasile, ma cosa fai? Ma sei al tuo posto, scusate. Tieni, Peppone. Brasile, tieniti pure tutto. Dove, qui. Lì, lì. Grazie. Prego, grazie. Prego. Prego. Grazie. Caro Peppone. È un'intera giornata che sto ripensando alla vostra descrizione della casa del popolo. Ah, e che me ne pare? Oh, magnifica, magnifica. E mi ha fatto decidere a mettere su quel piccolo localetto che avevo in mente da tanti anni. Farò la posa della prima pietra domenica prossima. E sarò inonorato della tua presenza, domenica. In qualità divina, così, vende, eh? Volentieri, volentieri. Cortesia per cortesia. Intanto, però, vedi di restringere un pochettino quel piccolo oggetto della casa del popolo. Perché è un po' troppo grossa per il mio temperamento. Ma, Don Camillo, ma siete ubriamo? Oh, non più di quella volta che feci una funzione funebre. Ha una carta da morto che non doveva essere chiuta tanto bene, visto che oggi ho incontrato il cadavere al posto per la città. Ma che cosa vorresti continuare? Oh, niente. Dico solo che quella carta con gli inglesi presentarono le armi e che io, bene lì, doveva essere piena di tanta roba che tu trovasti in quella vecchia villa dove prima c'era un comando tedesco. Ah. E chi il cadavere, eh? Doveva essere giù in cantina. Viva il vegeto. Ma ci rischiamo con la solita storia, eh? Si tende ancora di diffamare il movimento partigiano. Prego, brusco, bravo. Brr! Non lascia stare i partigiani che sono persone ferie. A me non mi fregno. Voi, voi avete pozzo da insinuare. Era tutta roba, rubata ai tedeschi. Argenteria, macchine, fotografici, oro e altra roba. Ma se non la prendevano voi, la prendevano gli inglesi. Era l'unico modo per farla uscire. A casa tutti le ricevute. E poi c'è anche chi può testimoniare. Nessuno ha toccato una lira. Dieci milioni sono stati ricamati e dieci milioni andranno per il povero. E' la pura verità. Questa è qualcuno da qualcosa da ridere? C'ho io come trattare. Bravo, brusco. Anche io. Ho capito. Non mi pare sia il caso di unificare. Oh, neanche a me. Tanto più che sono perfettamente d'accordo con voi. Dieci milioni sono stati ricamati e dieci milioni andranno per il popolo. Tette milioni per la vostra casa per il popolo e tre milioni per il mio localetto per i figli del popolo. Io chiedo solo quello che mi spetta. Sì, sì. Se non aveste quel maledetto arnese fra le mani, ti direi che questo è il più vilo ricatto dell'universo. Firma per cuore, firma. Vieni, copri. E allora Gesù, che prene pare? Sono perfettamente d'accordo con Peppone. Se tu non avessi quel maledetto affare tra le mani, direi che questo è il più vilo ricatto dell'universo. Ma, Gesù, ho in mano la segno alla tre milioni che mi ha firmato. E poi? Appunto, Don Camillo, appunto. Con questi tre milioni farai troppe cose buone e belle perché io possa maltrattarti. Grazie, Gesù. Non sembra che i tuoi novecento anni cominci da pesarti, eh? Non fare da spirituosi. Se non so niente venuto, ho un motivo certo. E quale le grazie? Non vengo certo a scriverarlo a te. Sono angelo, mica fesso. Ma che razza di angelo gustone sei? Se lasci il tuo assistito, venga sommerso da un mare di legnate senza alzare una più lupacca. Con me non attacca. È inutile che ci provi. Posso solo dirci che alle volte una bella legnata vale per i miei dieci fioretti. Ah, e chi ti capisce? Ecco, meglio.